Ciak si gira, riassunto delle puntate precedenti. Abbiamo parlato dei comuni in Europa e soprattutto in Italia e abbiamo parlato nell'ultima lezione delle crociate, quindi delle spedizioni armate che i sovrani europei, con il benestare e il consenso del Papa di turno, compivano a Gerusalemme per liberare quei luoghi dai musulmani. Crociate che andarono, come abbiamo detto, parecchio male per i sovrani cristiani. Oggi ci spostiamo un pochino più a est e andiamo a vedere che cosa succedeva in quell'epoca. Parliamo di Gengis Khan, dell'impero dei Mongoli, e di Marco Polo. Li vedete, Gengis Khan sopra di me e Marco Polo a sinistra. Prima però dobbiamo parlare delle origini dei Mongoli, di questa popolazione. Qualcosa lo sappiamo già, sappiamo che erano seminomadi, che si spostavano, che vivevano in yurte, che erano delle tende mobili, che erano degli abili arciere e degli abili cavalieri. Nel periodo di massimo splendore, l'impero dei Mongoli, sotto Gengis Khan, e siamo nel XIII secolo, raggiunse il suo massimo splendore e l'estensione di questo impero andava dall'attuale Cina al Volga, che è un fiume che si trova in Russia. Avevano i Mongoli un'organizzazione tribale, come tanti altri popoli che abbiamo conosciuto, quindi gerarchica. Il loro capo tribù era il Khan. Si dedicavano i Mongoli all'allevamento di pecore e cavalli. Ovviamente se avessero praticato l'agricoltura sarebbero stati sedentari, perché per l'agricoltura io devo rimanere sul territorio, mentre l'allevamento mi permette di spostarmi. E soprattutto praticavano lo sciamanesimo. Che cos'è lo sciamanesimo? È una sorta di religione, possiamo dire, non vorrei sbagliare, non essere preciso, comunque sia lo sciamanesimo ritiene che tutti gli esseri viventi, ma anche delle cose o dei luoghi possano avere delle qualità divine. E nelle società tribali che praticano lo sciamanesimo, la figura dello sciamano è importantissima, perché lo sciamano è l'intermediario tra il mondo dei vivi, e quindi la tribù, e invece il mondo degli spiriti. È un tramite, fa da tramite. Lo sciamano infatti in alcune occasioni, per esempio se una persona era malata, oppure se c'era una carestia da parecchio tempo, o in occasione delle festività, poteva tramite un rituale cercare di entrare in contatto con gli spiriti, per esempio per far guarire la persona, per far cessare la carestia. Gli elementi, allora lo sciamanesimo non nasce in realtà proprio solo nel territorio mongolo, ma nasce nello stesso momento in tante culture, anche in Sud America per esempio. E gli studiosi che hanno studiato questo fenomeno hanno detto, in realtà esistono tre elementi che sono simili per tutti i tipi di sciamanesimo, dal Sud America alla Mongolia, eccetera. Questi elementi sono la chiamata, cioè lo sciamano è una figura, un membro del villaggio, un membro della tribù, che a un certo punto sente di essere chiamato dagli spiriti e quindi ha questa vocazione, potremmo chiamarla. Due, il viaggio. In occasione, come abbiamo detto, delle malattie e delle carestie, lo sciamano cerca di incontrare questi spiriti e fa una sorta di viaggio mentale, potremmo dire. In un primo momento lui va in trance, quindi non è più come cosciente, è come se lui si spostasse in un'altra dimensione. Spesso la trance, quindi questo stato di incoscienza è anche causato dal fatto che lo sciamano mangiava per esempio degli allucinogeni, come dei funghi o delle erbe particolari. Poi c'era il momento della metamorfosi, cioè lo sciamano a questo punto si trasformava in una sorta di animale protettore, nell'animale con cui lui si identificava, poi combatteva contro altri animali, spiriti nemici e infine ritornava in sé, quindi cessava lo stato di trance. Ovviamente quando ritornava in sé, lui essendo entrato in contatto con gli spiriti, aveva risolto il problema, quindi per esempio il malato da quel momento in poi poteva iniziare a star meglio, la carestia sarebbe cessata, perché c'era stata questa congiunzione tra il mondo dei vivi e il mondo dei morti. Il mondo, scusatemi, degli spiriti, che è diverso. Infine la terza caratteristica è quello che si chiama anargirismo, che in senso grande vuol dire il rispetto di ogni individuo di madre terra, che ogni sciamano doveva avere, quindi lo sciamano è molto legato alla terra, e soprattutto gli sciamani non potevano ricevere compensi, quindi non si facevano pagare per il servizio che prestavano a tutta la comunità. Qua vi ho messo degli sciamani, perché ancora oggi ne troviamo, hanno questi tamburi, compiono dei riti, hanno dei vestiti particolari, e li troviamo come abbiamo detto in Mongolia come in Sud America. Uno sciamano è un uomo, una donna, che entra per volontà in uno stato alterato di coscienza, quindi altera la sua mente, la sua situazione mentale, perché? Perché si vuole mettere in contatto con una realtà che di solito è nascosta e utilizza questa realtà per acquisire conoscenza, potere e per aiutare gli altri. Lo sciamano ha uno più spiriti al suo servizio. E adesso andiamo a parlare dei mongoli, quindi questo che abbiamo visto è un approfondimento sulla loro religione. I mongoli erano una popolazione molto distante dall'Europa, e gli europei si ritenevano al centro del mondo, tenete conto che l'America sarà scoperta solo alla fine del XV secolo, e quindi gli europei ritenevano di essere la civiltà migliore, più sviluppata sotto ogni punto di vista economico, sociale, culturale, statale. Perciò tutto quello che veniva da lontano, gli europei lo vedevano con una certa diffidenza e un certo senso di superiorità, cioè tendevano a ritenere le altre civiltà inferiori alla loro. E gli europei vengono a sapere dei mongoli, perché comunque anche nel Medioevo ci sono i commerci aperti con l'Asia, si esporta e si importa, soprattutto sete. E vengono a sapere dei mongoli, e in realtà non li chiamano mongoli, li chiamano tartari. Questo è un esempio lampante di pregiudizio, perché? Perché mongoli e tartari non è la stessa cosa, cioè sono due popolazioni asiatiche, vero, però diverse. È come dire franchi e bizantini, no, non c'entra nulla. Sono due popolazioni diverse, e in realtà i tartari erano anche nemici dei mongoli, primo punto, e in realtà non si chiamavano tartari, ma si chiamavano tartari. E perché gli europei allora li chiamano tartari? Li chiamano tartari perché il tartaro per i greci corrispondeva all'inferno, e quindi dire tartari è come dire quella popolazione di diavoli che viene dall'inferno, e quindi non solo li riteniamo inferiori a noi, ma li riteniamo anche diabolici in un certo senso, ok? Il tartaro è l'inferno dei greci, infatti c'è uno storico, c'è stato uno storico greco che si chiamava Esiodo, che nel nono secolo avanti Cristo, quindi tantissimi secoli fa, ha scritto un'opera che si chiama Teogonia, in cui racconta della nascita del cosmo, e racconta anche di questo tartaro che è il luogo infernale, dove avevano le anime dei dannati. Quindi questa è la differenza tra mongoli e tartari, ok? E il pregiudizio che avevano gli europei. Alla fine del XII secolo, Temujin, che era nato da una famiglia povera ed era stato ragazzo orfano perché gli erano morti in giovane età entrambi i genitori, diventa un guerriero, diventa un combattente, divenuto uomo, unifica tutti i diversi popoli della steppa, quindi ottiene l'assenso, il consenso da parte di ogni Khan, e lui diventa il sovrano. Nel 1206 prenderà il nome di Gengis Khan, e non è un nome casuale, allora Khan vuol dire capo. Lui mette un altro nome prima, Gengis deriva dal turco Tengiz, che significa oceano, cioè signore di un territorio oceanico, cioè di un territorio molto esteso, ok? Da questo momento in poi, dopo aver unificato tutte le tribù dei mongoli, inizia la sua espansione in un modo molto netto, cioè lui guida la cavalleria e quando incontra un nuovo popolo presenta due alternative. Morte, cioè o vi uccidiamo tutti e radiamo solo la città, la distruggiamo e non rimane più nulla, oppure sottomissione. Se vi sottomettete non vi facciamo niente. Si mette a capo di un esercito di 150.000 uomini, e anche le donne partecipavano alla guerra, potevano partecipare portando per esempio il cibo, i materiali e l'equipaggiamento dei soldati, ma spesso le donne anche combattevano. E l'equipaggiamento dei soldati era molto pesante, perché ogni soldato era equipaggiato con due archi, due spade e quattro scudi, quindi aveva una quantità di materiale anche da portarsi dietro varia. Morì nel 1227 e con lui, con Gengis Khan, l'impero dei mongoli raggiunse la massima estensione, lo vediamo dopo in una mappa, e venne sepolto per sua volontà, per suo ultimo desiderio sul monte e tuttora la sua sepoltura è segreta. È importante sapere quali sono i fattori del successo di Gengis Khan, cioè com'è che lui ha potuto conquistare un impero di dimensioni incredibili. C'è riuscito perché la situazione politica, quindi amministrativa, dell'Europa orientale e dell'Asia era molto frammentata, cioè esistevano tantissimi principati molto deboli, in lotta fra di loro, e quindi questa situazione di divisione da un lato e di debolezza, il fatto che ognuno combattesse per conto suo, facilita la sua conquista. Questo è l'impero dei mongoli, vedete in basso a destra la leggenda, in verde, no cos'è, un azzurrino? Oh mamma quanto sono cieco! Questo che vi sto sottolineando, insomma quel colore lì, blu-verde-acqua-bru, sono i territori sotto il dominio dei mongoli e poi avete anche i territori di influenza, quindi non direttamente dominati ma comunque sotto il controllo dei mongoli. E poi vedete con le freccine rosse l'espedizione dell'armata mongola, che si dirigono ovviamente verso i territori che devono essere conquistati. Quindi questo è l'impero del Gran Khan. Kublai Khan lo vedete qua, nasce in questa zona, Karakorum sarà la capitale dell'impero mongolo e più avanti invece la capitale diventa Pechino, che è anche l'attuale capitale della Cina. I due fiumi principali della Cina sono il fiume azzurro e il fiume giallo. Quindi vedete l'estensione praticamente dall'attuale Corea o comunque Cina orientale fino all'odierna quasi Ungheria. Costantinopoli è qua, giusto per avere due dritte, l'Italia è qua e qui c'è Vienna. Dopo Gengis Khan cosa accade? I Khan che gli succedono proseguono nell'ampliamento e nel consolidamento dell'impero. Nel XIV secolo l'impero si divide in quattro canati proprio a causa della sua estensione. Un territorio esteso, e lo abbiamo già visto con l'impero romano, era molto difficile da controllare, poteva essere sconfitto più facilmente. Quindi si decide di scindere in quattro parti l'impero e in sostanza abbiamo la Cina, dove primeggerà la dinastia Yuan, che vediamo dopo, il Turkestan, la Persia, però devo cambiare di iniziatore, quindi il Turkestan questo qua, la Persia, infine la Russia. The Golden Order perché in realtà il nome di questo canato è Lord d'Oro. Comunque a noi interessa sapere la divisione. L'impero mongolo vive una situazione di pace e di prosperità, fioriscono i commerci, fiorisce la cultura e all'interno non ci sono divisioni, non ci sono scissioni, non ci sono guerre e ovviamente la pace favorisce il quanto abbiamo detto. C'è poi da segnalare la Via della Seta, che è la via principale del commercio, che collega l'Oriente all'Europa, e la Mongolia al Volga, che è un fiume della Russia, e poi dal Volga ovviamente verso le pianure dell'Europa centrale, tutte le principali città europee dell'epoca. Qua vedete la Via della Seta, da dove parte, da dove arriva, Roma, ma potrebbe essere qualsiasi altra città dell'Europa centrale, e sopra la vedete effettivamente, cioè di cosa parliamo quando parliamo di Via della Seta? Nulla di campato in aria, una strada, una strada che va da un punto A al punto B. Quindi lungo questa strada nascono città, nascono locande, nascono luoghi dove si curano i cavalli, stalle, eccetera, eccetera. E vedete sopra la strada che passa in mezzo a una città di un deserto della Cina, la strada passa ovunque, quindi passa in mezzo a deserti, passa in mezzo alle città, e permette il commercio. Quindi su questa strada dovete in realtà immaginarla piena di carovani che vanno e vengono da una parte e dall'altra. E adesso andiamo a parlare della Cina. Vediamo in generale quali sono le dinastie più importanti. Allora, la Cina prende il nome, e questo mi sembrava curioso saperlo, dalla dinastia Qin, che è una dinastia del III secolo a.C. Il membro di questa dinastia, Shi Huang, perdonatemi in anticipo per le pronunce, nel 221 a.C. diventa il primo imperatore della Cina unificata. In che senso? Nel senso che anche in Cina, prima di Shi Huang, c'erano diversi popoli divisi e lui fa un po' la stessa cosa che aveva fatto Gengis Khan con i Mongoli, cioè li unifica. Una volta che Shi Huang ha unificato la Cina, si presenta la minaccia di un nemico, cioè il popolo degli, perdonatemi, Xiongnu, che sono dei guerrieri a cavallo che venivano dal nord. Proprio sotto la dinastia Qin, quindi con Shi Huang, inizia la costruzione della grande muraglia cinese per difendersi da questi invasori, da questo popolo. Inizialmente la muraglia che viene ultimata in dieci anni ha un'altezza di sei metri e una lunghezza di circa 5.000 chilometri e corre lungo il confine tra l'impero della Cina e i territori di questi popoli. Morirono più di un milione di persone per la costruzione e siccome ovviamente bisognava pagare la mano d'opera e pagare i materiali, si aumentò il carico fiscale e quindi le tasse che tutti i cittadini dell'impero dovevano pagare per finanziare la costruzione della muraglia, tant'è che a un certo punto i contadini, che erano impiegati nella costruzione della muraglia, diedero inizio a una rivolta e posero fine alla dinastia Qin. A seguire venne la dinastia Han, che sconfisse gli Huxiung Nu, non riesco a pronunciarlo, e aggiunse altri 500 chilometri alla muraglia. Sotto questa dinastia vennero edificate anche delle torrette di controllo sulla muraglia e poi vennero concordati dei segnali per cui se per esempio dalla torretta di controllo si faceva del fumo, i soldati che erano li a controllare facevano del fumo e c'era solo una colonna di fumo vuol dire che stavano arrivando meno di 500 nemici, se ne facevano due erano meno di 3000, se ne facevano tre erano cavoli amari perché voleva dire che stava arrivando un esercito di circa 10.000 persone. Quindi in questo modo siccome le postazioni erano alla stessa distanza l'una dall'altra, anche i soldati delle altre località potevano avvisare gli altri e quindi potevano muoversi per opporsi agli invasori che stavano arrivando. Abbiamo poi la dinastia Song, che regna per più di 300 anni e sotto questa dinastia c'è un forte boom demografico, infatti la popolazione raddoppia. E poi la dinastia Wan, che è quella che noi ricordiamo con Kublai Khan. E sotto questa dinastia la capitale si sposta a Pechino. Kublai Khan, che è in pratica il nipote del Gengis Khan di cui abbiamo parlato prima. Sopra di me vedete, come vedete, non mi ricordo il nome di questi popoli, comunque sono dei protagonisti della saga di Star Wars. Qualche forse mese o anno fa è uscito un nuovo episodio della saga di Star Wars e quindi la casa produttrice del film ha fatto una presentazione e un evento proprio sulla grande muraglia e quindi questi figuranti che vedete si trovano proprio sulla grande muraglia. Ho deciso di mettere questa immagine e non un'immagine di un sovrano mongolo perché mi sembrava più divertente. Ecco qua vedete in alto la muraglia cinese, sopra di me come è fatta, e poi nell'immagine a destra da dove parte e da dove arriva. Ovviamente ci sono, ve le segnalo, anche delle deviazioni o delle varianti, per esempio qua. E infine Yalu River, fiume giallo. Cosa accade però? Che quando i mongoli si impongono sull'impero cinese e lo conquistano, impongono delle tasse molto pesanti e sfruttano i contadini cinesi come mano d'opera per costruire per esempio dei palazzi molto sfarzosi, molto eleganti. E i contadini cinesi vengono impiegati anche per costruire degli argini al fiume azzurro che spesso esondava e sono costretti a lavorare dai mongoli. Per cui nel 1368 i contadini, ma anche gran parte della popolazione cinese, si ribella all'oppressore mongolo e cacciano in quell'anno l'ultimo imperatore. A questo punto va al potere la dinastia Ming, che resta al potere per quasi 300 anni, fino a 1644, e con questa dinastia la Cina prospera dal punto di vista economico. La muraglia arriva a 7000 chilometri e inizia a essere difese anche con balestre, cannoni e bombe a mano. Quindi artiglieria pesante e innovativa. E adesso direte, prof, ma mica stiamo facendo astronomia o studio dei satelliti? Questa è una foto che ho trovato sul sito della NASA, National Air Space Agency degli Stati Uniti, l'agenzia che manda i missi nello spazio, per dirla facile, ed è una foto che la NASA ha scattato, da se non sbaglio un satellite, molto ingrandita, in cui si vede la muraglia cinese, che spero di non sbagliarmi, è questa qui. Eccola, 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 e poi va verso le montagne, e poi entra dentro di me. Ecco, alcuni dicono che in realtà la muraglia cinese sia l'unica opera umana, quindi costruita dagli uomini visibile dallo spazio. In realtà non è così, ho scoperto, c'è scritto sul sito della NASA, è visibile dallo spazio? Sì, ma se si usano delle fotocamere potentissime che ingrandiscono tantissimo le immagini. E quindi ci tenevo a dirvelo. Le invenzioni cinesi. I cinesi sono stati dei grandi inventori. A partire dalla carta, la cui invenzione risale al secondo secolo avanti Cristo, e utilizzavano per fare la carta dei fusti di bambù. La bussola nel 239 avanti Cristo, che fu, in realtà la bussola inizialmente venne usata quasi come un gioco, come un oggetto di divertimento, e poi gli europei effettivamente la usarono ai fini delle conquiste territoriali e marittime. La carta igienica, molto importante alla fine del VI secolo, i fiammiferi, la porcellana, e sopra vedete due vasi di porcellana, e anche oggi la porcellana cinese è molto rinomata, i fuochi d'artificio, che ovviamente presupponevano l'uso della polvere da sparo, e la stampa caratteri mobili, in realtà pare che i cinesi fossero arrivati prima degli europei di quasi 400 anni, perché gli europei scoprivano la stampa caratteri mobili solamente alla metà del 400. A fianco di me è una bussola. E adesso andiamo a parlare di Marco Polo, che vedete sopra di me con un arco, frecce e spada, e al fianco vedete le iurte, che sono le tende dei mongoli, che spostavano poi il loro accampamento nomade di volta in volta. Chi andava in Asia nel 1200? Sostanzialmente due tipi di persone. Primo, i missionari, cioè preti che volevano convertire i mongoli, e spesso facevano questi preti delle prediche terribili, molto preoccupanti, perché dicevano se voi non pregate il Dio cattolico finirete tutti all'inferno e brucerete all'inferno, e parlavano ovviamente a un popolo spiritista. Uno di questi missionari è stato Giovanni di Pian del Carpine, che ha scritto una storia dei mongoli, quindi in cui racconta le usanze, le tradizioni, le feste, il cibo, tutto ciò che riguarda i mongoli, e che divenne un libro molto importante questo, perché tutti i missionari, i mercanti che in seguito andarono in quei territori, lo lessero per avere un'idea, un po' come fate voi, quando prima di partire verso una destinazione estera vi informate su tutto ciò che andrete a trovare. Il secondo tipo di persone, oltre ai missionari, erano i mercanti che percorrevano le vie carovaniere, come la via della seta, per affari, quindi esportavano e importavano merci e la vendevano nelle fiere. Due di questi mercanti erano veneziani ed erano Niccolò e Matteo Polo, che partivano per la Cina nel 1254, quando tornarono ritrovarono parecchio cresciuto il figlioletto di Matteo, che avevano lasciato lì, che era Marco. Decidono di ripartire e alla fine restano tutti e tre in Cina dal 71 all'89, quindi quasi per vent'anni. Marco Polo impara presto la lingua, conosce Kubilai Khan perché nel viaggio precedente Kubilai Khan aveva dato un messaggio a Niccolò e Matteo Polo da far recapitare al Papa e quando Niccolò, Matteo e Marco ritornano dal ai Khan, portano la risposta del Papa. Quindi Marco conosce Kubilai Khan, impara ben presto la lingua, Kubilai Khan si fida di lui e lo nomina prima consigliere, poi ambasciatore, poi governatore di alcuni territori. In sostanza Marco Polo è un cittadino europeo, nella fattispecie veneziano, che diventa uno dei più importanti uomini politici sotto Kubilai Khan, quindi di un regno orientale di cui gli europei ne dicevano di ogni, perché dicevano che appunto i mongoli per esempio bevevano il sangue, c'erano dei mostri secondo gli europei nel territorio dei mongoli, erano un popolo arretratissimo che viveva in condizioni di spovertà, di sporcizia eccetera. In realtà Marco Polo racconta nei resoconti dei suoi viaggi che non è vero nulla di tutto questo e che i mongoli in realtà hanno una chiara e solida organizzazione politica e anche un livello culturale molto buono, per cui butta giù tutti quei pregiudizi che gli europei avevano sui mongoli, ma perché gli europei avevano questi pregiudizi? Perché non conoscevano quelle popolazioni. Quando Marco Polo torna deve combattere in una battaglia contro i genovesi, ricordiamoci che siamo nel periodo delle repubbliche marinare, nel periodo comunale delle lotte fra repubbliche marinare, tra sé e anche con i comuni, viene imprigionato in una battaglia navale, perché i genovesi e i veneziani ovviamente si contendevano il controllo dei mari italiani, e viene imprigionato in carcere. Pensate un po', il suo compagno di cella era Rustichello, e voi direte chi è? Era un letterato pisano che chiede a Marco delle sue avventure, e Marco inizia a raccontarle, per cui Rustichello le scrive. Nei mesi che passano in prigione, Rustichello scrive e racconta le avventure di Marco. E qualche anno dopo viene pubblicato un libro che si chiama Il libro delle meraviglie del mondo, che racconta tutte le avventure di Marco Polo nel territorio dei Mongoli. Questo libro poi oggi è conosciuto come Il milione. Ci sono diverse opzioni, cioè sul perché questo testo si chiama Emilione. Quella più accreditata, cioè quella più valida, è questa. Siccome a Venezia c'erano tante famiglie che si chiamavano Polo, le famiglie si davano un prenome, un po' come noi diamo un soprannome a una persona per riconoscerla meglio, in modo più efficace e diretto. E la famiglia di Polo si chiamava Emilione, Emilione Polo. Poi cosa successe? Che col tempo la lingua cambiò, si trasformò, quindi cadde la e rimase solo Emilione. Primo punto. Secondo, il Emilione deriva da Milium e Milium è una parola latina che vuol dire Emilio. Magari avete sentito Emilio Marino e Emilio Navale. Il Emilio è una lunghezza, quindi un Emilio mi sembra che sia un chilometro e sei. Perché si dice Emilio? Perché Marco Polo per andare in Financina avrebbe compiuto un percorso lungo moltissimi chilometri, quindi lungo moltissime miglia. Quindi questo termine indicherebbe la distanza che lui ha percorso, per cui il libro si chiama così. Terza ipotesi, secondo alcuni Marco Polo rispondeva quando gli chiedevano delle ricchezze del Canna. Il Canna ha una ricchezza di 10-15 milioni e quindi da lì forse ha preso il nome anche il testo. In realtà la prima, vi dicevo, è quella più valida. Abbiamo detto che trova una civiltà tecnologica con un governo efficiente, però cosa accade? Che Rustichello, siccome vuole rendere il testo e il racconto di Marco più avvincente, ci mette anche delle esagerazioni, degli elementi di fantasia. Perché ovviamente lui vuole venderlo, questo libro, quindi vuole guadagnarci e vuole renderlo anche pittoresco. Una di queste esagerazioni è quella degli uccelli di rock. Cioè Rustichello a un certo punto racconta che nel territorio dei Mongoli ci sono degli uccelli giganteschi che praticamente quando hanno fame vedono degli elefanti, vanno impicchiata verso l'elefante, lo prendono con il becco, lo riportano in aria. Quindi pensate che muscoli dovevano avere. Arrivano in aria e come alcuni predatori degli uccelli fanno effettivamente, lasciano l'elefante, l'elefante cade, si sfracella terra, poi torna giù e lo prendono. Tornano giù e lo prendono e se lo mancano. Quindi questa è una fantasticheria, chiaramente. La cosa importante è che Il Milione è un libro di viaggio, perché racconta il resoconto dell'avventura di Marco Polo, i territori che vede, eccetera, eccetera. Ed è anche un racconto storico-geografico. Storico perché racconta la storia di questa popolazione e geografico perché descrive il territorio dei Mongoli, cioè sono terre che nessun europeo prima di Marco Polo ha visto. Cito Cristoforo Colombo, che ha scoperto l'America nel 1492, perché Cristoforo Colombo in realtà scoprì l'America per caso, cioè lui era convinto di andare in Asia. Per cui cosa fece? Si portò nella sua caravella, nella sua nave, durante il viaggio un libro e portò Il Milione di Marco Polo. Perché? Perché lui voleva confrontare se quello che diceva Marco Polo aveva effettivamente un riscontro nella realtà. Per cui Cristoforo Colombo man mano che si avvicina all'Asia legge il testo di Marco Polo e lo corregge dove il testo sbaglia, per esempio nelle descrizioni geografiche. Ovviamente sappiamo poi che non poteva avere corrispondenza perché Colombo finisce proprio in un altro continente, finisce in America. E adesso vi ho messo qua e siamo quasi alla conclusione. Allora, alcuni di questi animali fantastici che descrive Rustichello li vedete qua perché Il Milione uscì anche con delle immagini che si chiamavano miniature perché erano immagini molto piccole. E ovviamente le immagini fanno partire la fantasia. E guardate cosa dice a un certo punto Marco Polo. Siamo al primo punto. Dicomi, cioè a me dicono, dicono a me certi mercanti che sono andati in questi luoghi, cioè nei territori del Canna, che ci sono uccelli grifoni. E questi uccelli non sono così fatti come si dice. Il grifone è questo qua che vi indico con la freccia. Non sono fatti come si dice di qua. Cioè mezzo uccello e mezzo leone, ma sono fatti come aguglie, cioè aquile. Sono grandi che le loro ali coprono venti passi, cioè hanno una lunghezza di venti passi, e le penne sono lunghe dodici passi. Cioè in pratica sta descrivendo che cosa? La differenza tra quello che si credeva in Europa e quello che si crede nell'impero mongolo. Cioè in Europa i grifoni sono dei mostri, si crede che sono dei mostri, che sono per la metà inferiore uccelli e per la metà superiore leoni. In realtà nell'impero mongolo nulla di tutto questo. Si tratta di aquile gigantesche. Per quanto riguarda le scoperte, o meglio, le informazioni geografiche di Marco Polo, possiamo dire che sono molto importanti quelle riportate nel milione, tant'è che Fra Mauro, che è un monaco, nel 1450, disegna su pergamena un mappamondo, e questo mappamondo, gran parte delle indicazioni e della forma di questo mappamondo, deriva dalle informazioni che lui ha trovato nel milione di Marco Polo. Ci sono anche 3000 iscrizioni, toponimi per esempio, e in questo mappamondo si vede per la prima volta che l'Africa può essere circonnavigata, quindi passando al sud del capo di Buona Speranza, cosa che in realtà verrà fatta mezzo secolo più tardi. E infine vedete a Ulaanba Thor, la capitale della Mongolia, una statua che ricorda Marco Polo davanti a un orribile palazzo. E infine l'ultima slide. Nella prima immagine vedete Marco Polo da Kublai Khan, un'altra miniatura del milione, e infine Marco Polo in età ormai avanzata. E guardate lui cosa scrive nel milione, o meglio, cosa scrive Rustichello. Avvenne che nel 1187 gli tartari fecero loro un re che ebbe nome Cinghiscan, cioè Genghis Khan. Costui fu un uomo di grande valenza, di senno e di prodezza. Cioè sta raccontando, torniamo all'inizio, cioè quando Cinghiscan ha unificato tutte le popolazioni mongole. Un uomo di grande valore, di grande senno, cioè capacità intellettuale di ragionare, di pianificare le strategie anche di guerra, e prodezza, cioè un uomo coraggioso. E sì, vi dico, quando costui fu chiamato re, tutti gli tartari vennero a lui e tennero per signore, cioè viene nominato re, tutti i tartari, tutta la popolazione va da lui e lo riconosce come loro signore. E questo Cinghiscan tenea la signoria bene francamente, cioè sapeva governare in modo franco, diretto, onesto e molto bene, era capace. E qui vivenne tanta moltitudine di tartari che non si potrebbe credere. Quando Cinghi si vide tanta gente, si apparecchiò con sua gente per andare a conquistare altre terre. Cioè lui è stato nominato re, è diventato re, unificato le tribù. Cosa succede? Che viene talmente tanta gente, perché lo stimano, non lo ritengono capace, eccetera, che a questo punto gli dice, bene, ma se siamo così tanti conquistiamo altre terre. E sì, vi dico, che egli conquistò ben otto province in poco tempo, chiarissimo, né non gli facce male a cui egli pigliava né non rubavano. Cioè lui non compie atti violenti, cioè non fa male a nessuno e non ruba il denaro, ma menavaglisi dietro per conquistare le altre contrade. Cioè tutte le popolazioni che lui conquista gli vanno dietro, perché lo stimano, e conquistano altri posti. E così lui conquistò molta gente, e tutta la gente andavano volentieri dietro a questi signori. Cioè era un capo stimato, leggendo la sua bontà. Quando Cinghi si vede tanta gente, disse che voleva conquistare tutto il mondo. Cioè non si è accontentato di unificare le tribù, non si è accontentato di conquistare altre terre. A questo punto conquista tutto il mondo. E qua abbiamo concluso. Chiudiamo il cerchio e ci vediamo alla prossima.